Ma come faccio ad essere frugale, a spendere poco, ad essere un vero pezzente come me, se ho un hobby molto costoso? Questa domanda me la ponete spesso, soprattutto in live, tipicamente arriva la persona che mi chiede sì però io faccio equitazione, io vado a sciare e queste cose sono molto costose e quindi io non riesco ad essere frugale perché ho questi hobby. Come faccio? Come posso conciliare le due cose? Ecco allora vorrei provare a parlare di questo argomento perché è un argomento comune, diffuso, che riguarda molte persone e provare a darti un punto di vista un po' diverso della questione per aiutarti a chiarire le cose nella tua testa perché di solito è tutto lì, l'importante è chiarirsi con se stessi. Dunque innanzitutto, se tu hai un hobby che ti piace e quest'obby è costoso, ma per quale motivo dovresti rinunciarci per essere frugale? Ok? Non ha senso questa cosa. La frugalità, cioè lo spendere poco denaro, il cercare di risparmiare il più possibile, è un mezzo per liberare tempo e denaro, chiaramente, e utilizzare questo tempo e denaro per fare qualcosa che ti piace. Ok? Tipicamente una persona tende ad essere risparmiosa per non dover lavorare troppo e quindi fare di meno una cosa che non gli piace e avere un po' più di soldi e più di tempo per fare cose che gli piacciono. Ma se tu hai già trovato una cosa che ti piace nella tua vita, che sono i tuoi hobby, che è quello che fai nel tempo libero per divertirti, eccetera, ma per quale motivo dovresti risparmiare ad essere frugale? Già fai quello che ti piace, va bene così, no? Hai già trovato la tua strada, la tua direzione e va bene che tu spenda anche tanto denaro, tanti soldi in una cosa che ti piace. Sono soldi ben spesi, se li usi per fare qualcosa che ti dà soddisfazione, che ti rende felice, che vedi, che percepisci che il tuo tempo passato facendo quella cosa è tempo di qualità ed è vita ben spesa e dà un senso alla tua vita che ti fa sentire bene. Quindi hai già trovato il tuo equilibrio, quindi semplicemente devi fare pace con te stesso, devi dire, lavorare mi serve per in qualche modo avere il denaro per poi potermi permettere quel hobby costoso che è la mia felicità, che è il mio divertimento, che è quello che mi piace. E questo è il tuo equilibrio, benissimo. Che poi all'interno di questo equilibrio si possa limare da una parte all'altra perché tu vorresti fare entrambe le cose, cioè vorresti non lavorare, avere un sacco di soldi e coltivare anche un hobby costoso, beh questo è evidente, è evidente che tu vuoi questo, però chiaramente cadi in un paradosso, no? Ma chi è che non può non lavorare, avere un sacco di soldi e coltivare anche hobby super costosi dove sprecare, tra virgolette, sprecare tutti quei soldi? Lo può fare lo 0,1% della popolazione che sono i super ricchi che possono permettersi qualsiasi cosa. Tutti gli altri devono semplicemente mantenere l'equilibrio e decidere dove bilanciarsi e dove sbilanciarsi di più. Allora qui si possono dare dei consigli che sono interessanti. Ad esempio, un consiglio classico è il seguente. Moltissime persone praticano degli hobby o degli sport che sono a livello amatoriale ma pretendono, pretendono di avere materiale o di dedicare vici, sì, in una maniera professionale. E quindi hanno un materiale molto costoso, fanno, partecipano ad eventi che sono dall'altra parte del mondo, gli costa, parliamo di sport per esempio, in questo caso, gli costa tantissimo andare, no? Andare in trasferta e poi devono prendersi l'albergo e poi hanno bisogno degli integratori super costosi per essere performanti e poi hanno bisogno degli sci super costosi, la bicicletta costosa e quell'altro e sono degli amatori ma spendono come dei professionisti, ok? Questa cosa secondo me ha poco senso, quindi forse è lì che tu potresti un po' limare. Cioè potresti dire il mio hobby, il mio sport, la mia attività, va bene anche per gli hobby, chiaramente ho fatto l'esempio dello sport ma va bene anche per gli hobby. Quindi è comunque un hobby, è un qualcosa che io faccio a livello amatoriale, potrei semplicemente abbassare un pochino l'asticella, potrei accontentarmi, dal latino continuere, accontentarsi, cioè farsi andare bene quello che si ha, non puntare troppo in alto. E allora in questo modo magari riesco a spendere un po' di meno nell'hobby, essere un pochino più frugale e magari conciliare anche col fatto di non lavorare tantissimo per avere un po' più di tempo libero, non lo so. Vi faccio un esempio con l'andare in bicicletta. Sappiamo tutti che ci sono biciclette che costano 10.000 euro e che dovrai lavorare tantissimo per poterti permettere quella bicicletta da 10.000 euro. Però se sei un amatore potresti anche comprarti la bicicletta da 3.000 euro, così puoi lavorare un po' di meno. E così per le scarpe da correre, e così per qualsiasi tipo di collezionismo se vogliamo anche. Sei un collezionista di carte Pokémon, va bene, è un hobby magari che può anche essere costoso, non devi per forza avere le carte che costano 30.000 euro. È una questione di equilibrio ovviamente. E quindi il modo di essere frugali e allo stesso tempo coltivare hobby costosi è semplicemente quello di dire sì, mi coltivo il mio hobby costoso, ma dandogli un budget, un budget chiaro e preciso. E quindi se il tuo hobby costoso è andare a sciare e tu sai che ogni volta che vai a sciare ti costa 70 euro andare a sciare, dirai per quest'anno io decido di stanziare un budget di 300 euro, facciamo finta per andare a sciare, 7, 14, 21, 28, questa è la storia di Paperotto, vado quattro volte a sciare e basta. E allora sono stato frugale? Dai, sì, meglio che spenderne 600, meglio che spenderne 1000 per andare a sciare. Mi porto un panino invece di andare a mangiare al ristorante, vero Giorgio che quando andiamo a sciare si va sempre a mangiare al ristorante invece di bisogno di portarsi i panini? È questa piccola cosa tra me e Giorgio Pecorari che saluto. puoi pensare di in qualche modo ridurre le tue pretese, le tue aspettative e come dire il tuo hobby contenerlo all'interno di una sfera un pochettino più contenuta, un pochettino meno pretenziosa per poter essere un po' più frugale allo stesso tempo divertirti eccetera. perché ricordiamoci sempre che comunque il divertimento lo fai andando nei luoghi, stando con le persone, non con gli oggetti che possiedi, ok? Io penso che se ti fai un giro in bicicletta sulle Dolomiti te la godi tanto quanto, cioè è divertente che tu abbia una bici da 2000 euro e una bici da 10.000 euro. Farai un po' meno fatica con la bici da 10.000 euro? Va bene, ma è bello, ti diverti con i tuoi amici, il panorama è bello e il panino è buono uguale anche se hai la bici da 2000 euro. Questo è un esempio di hobby. Quindi penso che distaccarsi dalla necessità di avere oggettistica costosa ricordandosi che l'hobby è piacevole semplicemente perché ci passi del tempo e lo passi con le persone e stai facendo quello che ti piace può essere un primo passo. Poi in secondo luogo puoi essere frugale in tutto il resto, voglio dire puoi tranquillamente continuare a spendere molti soldi, molto denaro per il tuo hobby, mantenerlo ad un livello elevato, questa cosa va benissimo, si può fare e tagli sul resto. Alla fine della vita è solo una questione di priorità, no? Magari puoi decidere di andare meno volte a cena fuori, puoi decidere di non cambiare l'auto con quella più costosa ma accontentarti dell'auto meno costosa, di fare meno vacanze costose, eccetera. Poi tagli altre voci di spesa, ma l'importante è averle delle voci di spesa perché la maggior parte delle persone non hanno un piano, non hanno un Excel dove hanno tutte le loro voci di spesa e capiscono dove possono tagliare, i soldi escono così, un po' come escono i coriandoli dalle tasche a carnevale, un paragone terribile. Se tu sai quali sono le voci di spesa su cui puoi tagliare, puoi addirittura incrementare il denaro che metterai nel tuo hobby per divertirti ancora di più, usare ancora più, metterci ancora più passione, più tempo, avere ancora più soddisfazioni, no? La vita è questo, la vita è utilizzare il proprio tempo per fare qualcosa che ti dà soddisfazione e che alla fine dici ok, il mio tempo l'ho utilizzato in maniera buona, non avrei potuto spenderlo in maniera migliore, ho fatto qualcosa che ha dato un senso alla mia vita, è per quello che detestiamo il lavoro, perché il lavoro è un qualcosa senza senso, è fare per gli altri, è barattare la nostra vita per pochi spiccioli per gli altri, ok? E invece se stai usando il tuo tempo, il tuo denaro per qualcosa che ti piace, che ti dà una grande soddisfazione, allora va bene, ci può stare, ne puoi anche impiegare di più, taglia da altre parti. Paradossalmente una persona potrebbe anche lavorare di più per avere più soldi, per poi coltivare ancora meglio il suo hobby, perché chissà, magari domani quell'obby può diventare davvero un mestiere e trasformarsi in quello che fai a 360 gradi nella tua vita e renderti ancora più felice, più orgoglioso, più appagato. Ecco, io spero di aver fatto un po' di chiarezza su questo tema, perché alle volte si tende a non vedere un po' come stanno le cose, ma focalizzandosi su quelli che sono le priorità e su quello che ha il senso poi del fare, del vivere, dell'esistere, si riesce a avere più chiaro dove ha senso mettere i soldi, dove ha senso risparmiare, dove ha senso mettere le energie e quanto è importante per una persona, un hobby piuttosto che un altro, trovare la propria direzione.